Oggi è una firma importante perché è la prima applicazione della norma che consente alle ex ferrovie concesse, quindi quelle note come ferrovie regionali, di avvalersi delle competenze del gruppo ferroviario dello Stato e di aderire poi progressivamente alla rete ferroviaria nazionale, uscendo da quell'area di arretatrezza in cui molte di queste imprese ferroviarie sono rimaste. Basti pensare che il 100% della rete di RFI oggi ha un sistema di controllo a marcia treno mentre solo il 10% delle ferrovie regionali sono in questa situazione. Quindi l'Umbria direi come modello, sì certamente, la rete della ferrovia centrale Umbra è una rete importante, collega tra l'altro due città come Perugia e Roma e l'utilizzo della ferrovia centrale Umbra inserita nella rete ferroviaria nazionale può ridurre in maniera molto significativa i tempi di percorrenza tra Perugia e Roma.